Ciao, oggi mi suono Captain Nemo di Michael Schenker, il grandissimo chitarrista tedesco che ha suonato degli Scorpions e ha fatto tantissime cose, che ha avuto anche qualche alto e basso in carriera, ma adesso mi pare che sia assolutamente ristabilito dalle droghe, intorno e ovunque. Vi suono questo brano, questo Epifo Mandolir, comprato a Mov Musica a Verona, è uno strumento che mi segue un po' dappertutto, ci ho fatto tante cose, come in Modena, come in Casa del Vento, mille mie produzioni, eccetera, oggi ve lo suono con un po' di distorsione, un po' di riverbero e affronto questo brano che è Captain Nemo di Michael Schenker. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.